Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi abbiamo l'opportunità di parlare del Corecom Veneto con il Presidente Marco Mazzoni. Buonasera. Buonasera, ringrazio per l'invito e saluto tutti i telespettatori. Telespettatori che magari non conoscono bene il Corecom, non sanno bene che cosa faccia e quindi iniziamo appunto a capire di che cosa si tratta. La ringrazio per l'opportunità e per la domanda perché è utile far conoscere quest'ente che è oggettivamente poco conosciuto dai cittadini veneti, però offre servizi fondamentali alla cittadinanza e anche per le imprese che lavorano nel settore radio televisivo. Allora, Corecom, anzitutto cosa significa Corecom? Corecom è la cronica di comitato regionale per le comunicazioni, quindi dal termine appunto, dalla definizione di Corecom si evince che noi ci occupiamo di comunicazione a 360 gradi all'interno della regione Veneto. I Corecom sono presenti in ogni regione italiana e hanno delle deleghe di funzioni da parte dell'autorità centrale, l'autorità garante per le telecomunicazioni che sta a Roma. La famosa Agicom. La famosa Agicom, che soprattutto in periodo di parcondicio viene raccontata, viene evidenziata da tutti i media perché ha importanti funzioni in periodo di parcondicio appunto. Allora, ho detto cosa è il Corecom e adesso vado a spiegarvi, a raccontarvi un po' di cosa ci occupiamo. Allora, cominciamo dalle funzioni forse più importanti per i cittadini, ma che sono anche, ahimè, poco conosciute. Allora, il Corecom si occupa di effettuare le conciliazioni e le definizioni in materia di telefonia, ovvero sia ogni qualvolta un cittadino del Veneto abbia problematiche con il proprio operatore telefonico, sia la linea fissa di casa, sia la linea fissa dell'azienda, ossia l'utenza mobile, può rivolgersi al Corecom Veneto. Sottolineo, può rivolgersi gratuitamente perché è un servizio che il Corecom offre ai cittadini gratuitamente. Ho detto che svolgiamo il tentativo di conciliazione, ma cos'è questo tentativo di conciliazione? Sostanzialmente il Corecom mette in contatto le due parti, quindi l'utente e l'operatore e finalmente il cittadino utente ha la possibilità di incontrare per la prima volta l'operatore per potergli raccontare finalmente quali sono le problematiche e poter avere anche una risposta. Il Corecom, quindi in sede di conciliazione, come dice il termine stesso, mette insieme le due parti e cerca di risolvere la controversia bonariamente. Abbiamo un'ottima percentuale di riuscita delle conciliazioni perché ci aggiriamo intorno all'85%, quindi ottima ed efficace strumento di risoluzione delle controversie. Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo, il cittadino può decidere a questo punto di rivolgersi o l'autorità giudiziaria, oppure sempre la possibilità di rivolgersi in secondo grado, sempre al Corecom, sempre gratuitamente. Questa è la cosiddetta definizione della controversia, perché si chiama definizione? Perché definiamo la controversia e adottiamo un provvedimento amministrativo che è paragonabile ad una sentenza e quindi è coercitivo nei confronti eventualmente dell'operatore. Pertanto definiamo la controversia e anche in questo caso il cittadino ha altissime percentuali di buona riuscita della propria pratica. Le do due numeri per capire quanto è importante questo servizio. Allora, da quando si è insediato l'attuale comitato, quindi nel 2021, quindi in un triennio abbiamo gestito più di 15 mila pratiche, quindi veramente tante, e abbiamo restituito, lo dico tra virgolette, nel senso attraverso il Corecom sono stati restituiti ai cittadini veneti più di 3 milioni e 150 mila euro. Quindi parliamo anche di cifre importanti che sono o rimaste o state restituite alle tasche dei cittadini veneti con un tentativo, con uno strumento, tentativo di conciliazione, una definizione che ribadisco perché è importante, sono assolutamente gratuiti. Quando si può ricorrere, quando è che si utilizza questo servizio? Diciamo anche quali sono le problematiche pratiche, ad esempio nel momento in cui la DSL o la fibra non ci funzionano a casa possiamo rivolgersi al Corecom, nel momento in cui ci sono servizi non richiesti e fatturati, nel momento in cui ci sono errori nella fatturazione, anche nel momento di passaggio da un operatore all'altro che magari il passaggio, appunto, la migrazione si incaglia per un qualsiasi motivo, ci si può rivolgere al Corecom che emana un provvedimento d'urgenza e riesce a risolvere questa situazione. Quindi sono veramente molteplici i motivi per i quali ci si può rivolgere al Corecom. Quindi questa è direi la funzione nostra più importante e che occupa più risorse, più risorse intendo come personale ed è utile che i cittadini la conoscano e sappiano che c'è questa possibilità totalmente gratuita offerta dal Corecom e quindi indirettamente anche dal Consiglio regionale perché avevo mancato di dire prima che il Corecom è un ente insediato, incardinato presso il Consiglio regionale del Veneto. Corecom ha delle funzioni che noi chiamiamo proprie perché ci vengono direttamente date dalla regione perché noi svolgiamo anche consulenza sia al Consiglio regionale che alla Giunta nelle materie che riguardano la telecomunicazione. Abbiamo poi delle funzioni delegate, abbiamo prima parlato della famosa Agicom, abbiamo delle funzioni delegate da Agicom, tra le quali anche le conciliazioni in materia di telefonia. Altro servizio che forniamo ai cittadini veneti e questo ci tengo ad evidenziarlo e a farlo conosce ai cittadini, svolgiamo anche l'attività di media education e alfabetizzazione digitale ai ragazzi, ai docenti e anche ai genitori, ovvero ci avvaliamo di docenti importanti e esperti in queste materie che vanno nelle scuole attraverso o direttamente oppure attraverso dei webinar a illustrare, a spiegare quelle che sono le normative, le best practice, i comportamenti che bisogna utilizzare per avere appunto un utilizzo che sia responsabile, che sia consapevole dei nuovi media. Perché non dimentichiamoci che i ragazzi oggi sono molto più bravi ad utilizzare gli strumenti tecnologici di me, che comunque ho superato i 40 anni, quindi non sono un nativo digitale, sono molto bravi, ripeto, ad utilizzare questi strumenti. Tuttavia spesso mancano di consapevolezza e responsabilità nell'utilizzo, non sanno quali sono le conseguenze che possono esserci da un utilizzo errato dei social network, dei nuovi media, anche degli strumenti stessi, del smartphone eccetera. Quindi noi cerchiamo di sensibilizzare ragazzi, studenti, genitori e docenti ad un utilizzo responsabile di questi sistemi. Lo facciamo ingaggiando, come ho già detto, dei relatori di rilievo affinché vadano nelle scuole a divulgare quelle che sono le nozioni corrette nell'utilizzo di questi nuovi media. Ricordo appunto, per fare un esempio pratico, che l'8 di aprile, quindi pochi giorni fa, abbiamo fatto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale una lezione su YouTube, diretta, aperta a studenti, docenti e genitori, nella quale abbiamo trattato importanti temi ed è stato presente tra i relatori d'eccezione, cito solo uno dei relatori, il professor Guido Scorza, che è componente del garante della privacy e ha tenuto una lezione e dopo ha risposto anche alle domande che gli sono state poste sulla privacy, quindi anche relatori d'eccellenza. Il 18 aprile ci sarà un nuovo evento che invito tutti ad accedere al nostro sito, che metteremo il link, dove chi vorrà si potrà liberamente collegare al canale YouTube, che abbiamo aperto per questo specifico evento, e collegarsi e appunto poter assistere a questa lezione che avrà sempre ad oggetto, come tema, la cittadinanza digitale e un utilizzo consapevole e responsabile dei media. Ecco, noi ci stiamo adesso avvicinando a elezioni europee e elezioni amministrative, peraltro in provincia di Belluno di fatto c'è il rinnovo di metà dei consigli comunali. E' molto importante il lavoro che il Correcon fa per cercare di far sì che vengano rispettate le regole in materia di comunicazione, la famosa parcondicio. Certo, allora ci stiamo avvicinando, come lei diceva, ad una tornata elettorale molto importante. Noi vediamo già che c'è molto fermento, perché queste regole della parcondicio sono molto stringenti, ma allo stesso tempo non molto conosciute. Il Correcon, tra le varie funzioni di cui parlavo prima, si occupa anche di parcondicio. Parcondicio che si sostanzia in tre modalità. La prima, noi monitoriamo le emitenti televisive per verificare che venga concesso pari spazio a tutti i soggetti politici interessati. La seconda, vigiliamo che le pubbliche amministrazioni rispettino l'articolo 9 della legge 28 del 2000. Cos'è questo articolo 9? Che anche questo è poco conosciuto, non solo dai cittadini, ma anche dalle stesse pubbliche amministrazioni. Durante il periodo di parcondicio ci sarebbe il divieto di fare comunicazione istituzionale, se non nei casi di indispensabilità e se non in forma impersonale. Questo perché la razza di questa norma è quella di non avvantaggiare chi è al comando di un comune rispetto a chi non lo è. Quindi evitare di utilizzare gli strumenti della pubblica amministrazione che gestisce in modo a dargli un vantaggio rispetto a chi invece non ha la possibilità di governare governare il comune o l'ente di cui stiamo parlando. La parcondicio, ricordo, è cominciata già, siamo già in parcondicio, perché vi saranno assieme sia le elezioni europee che le amministrative. Ricordo che in Veneto andranno al voto più di 300 comuni, quindi una tornata anche di amministrative importanti. E il terzo punto che ricordavo prima, quindi oltre al monitoraggio delle tv al monitoraggio che non venga violato l'articolo 9 della legge 28 del 2000, il Coricom si occupano anche della parte istruttoria dei mag. Cosa sono questi mag? Sono i messaggi autogestiti gratuiti, ovvero se i soggetti politici hanno la possibilità di mandare dei messaggi gratuitamente nelle tv che si offrono di trasmettere questi messaggi. Messaggi che vengono poi ripagati alle tv che concedono questi spazi dal Mimit. Il Coricom si occupa di gestire la fase istruttoria per i rimborsi. Dico solo un dato, abbiamo restituito l'anno scorso 116 mila euro alle emittenti tv, quindi anche qui ci sono numeri importanti e ci aspettiamo numeri importanti anche come lavoro per il Coricom perché noi dobbiamo gestire tutte le segnalazioni di eventuale violazione di questa par condicio, quindi di pari condizioni. Il Coricom in questo si occupa di tutta la fase istruttoria perché ci arrivano le segnalazioni, il Coricom anche in termini di tempo abbastanza celeri deve fare un'istruttoria, invierà alla fine questa istruttoria una proposta o di sanzione o di archiviazione ad Agicom che dopo rimane l'autorità delegata ad emettere eventualmente la sanzione, se vi sarà ritenuta la violazione, la sanzione amministrativa. Quindi diciamo che è poi un lavoro anche di fino nel cercare di analizzare caso per caso capire poi anche quanto si è ecceduto. Certo, allora ricordo che per le retti nazionali vige un par condicio molto stringente perché vengono conteggiati i tempi in maniera matematica. Per le retti locali, quindi quelle di cui si occupa il Coricom, vige un principio di equilibrio, quindi noi valutiamo anche con un certo buon senso che venga mantenuto l'equilibrio, non andiamo a conteggiare il secondo di differenza e quindi verifichiamo che venga conteggiato in tutto il periodo di par condicio, quindi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica fino alla fine del turno elettorale che venga mantenuto un certo equilibrio. Ci tengo a dire una cosa su questo tema, il Coricom anche se nel periodo di par condicio è a un'autorità di controllo che venga rispettata dal par condicio, noi come comitato abbiamo sempre cercato di mantenere un rapporto collaborativo con le tv. Infatti andiamo ogni settimana, noi riceviamo un report relativo alla messa in onda della settimana precedente su quelli che sono state le tempistiche di trasmissione, perché monitoriamo appunto tutte le tv e per far sì che non vi sia un mero e rigido solo controllo andiamo anche ad interloquire con le tv, cioè mandiamo ogni settimanalmente delle lettere a ogni singola tv che diciamo guardate, cercate di ripristinare l'equilibrio, invitate magari più appartenenti più al centro-destra, magari invitate più appartenenti al centro-sinistra in modo da riequilibrare. È un lavoro difficile ma che noi cerchiamo con le tv di portare avanti insieme, infatti noi reputiamo questo nostro ruolo più che un ruolo da vigili, un ruolo di collaborazione con le tv per il bene di tutta la collettività. Infatti è termino, fino adesso non abbiamo mai elevato sanzioni nei confronti delle tv, ma abbiamo sempre cercato di riequilibrare insieme alle tv i numeri. Grazie mille per essere stato con noi, per averci spiegato come dire, delle caratteristiche del Corecom che magari il cittadino comune non conosceva proprio benissimo. Io ringrazio lei direttore per l'opportunità che ci ha dato e saluto tutti gli ascoltatori, buonasera. Buona serata quindi e ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni.